Con una sobria cerimonia è stato consegnato alla città di Riposto il restaurato Palazzo Vigo, la monumentale residenza nobiliare di Torrarchirafi, destinata a diventare un polo museale, congressuale e location per eventi internazionali. All'inaugurazione di sabato sera hanno preso parte, tra le tante autorità civili e militari, i sindaci del comprensorio Ionic Etneo, il sindaco Enzo Caragliano con l'aggiunta al completo, il presidente del consiglio Mariella Di Guardo, in rappresentanza della regione Giuseppe Caudo, dell'ufficio gabinetto della presidenza della regione siciliana. È stata una grande scommessa che abbiamo vinto, nonostante le incertezze e le difficoltà legate ad un finanziamento di oltre 3 milioni di euro, ha detto il sindaco Enzo Caragliano, inaugurando la struttura polifunzionale di Torrarchirafi. Tutti a vario titolo si sono prodigati per il completamento di questo importante intervento di restauro, che ci consente adesso di utilizzare questa straordinaria e suggestiva residenza per eventi di rilievo. Adesso ha evidenziato il sindaco l'altra sfida è la gestione della struttura. Pensiamo ad una fondazione e già dalla prossima settimana saranno concretizzate alcune interlocuzioni avviate nei mesi scorsi con alcune fondazioni interessate. Di certo Palazzo Vigo è una realtà importante per tutto il territorio, una struttura dotata di sala conferenze, aule multimediali, sale incontro. Essa potrà ospitare manifestazioni e al tempo stesso diventare fulcro delle attività turistico-culturali, conclude il sindaco. Il vice sindaco e assessore alla cultura Gianfranco Papalardo Fiumara, dal canto suo ha ribadito alcuni precisi concetti. Palazzo Vigo, con il suo restauro, rappresenta una sfida per il futuro, anche per gli obiettivi programmatici e strategici della nostra amministrazione, che volge la propria attenzione costantemente verso il turismo qualificato, culturale e collettivo. Attraverso il filo conduttore delle tecnologie applicate alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, Palazzo Vigo sarà un punto di prossimità turistico per dare vita ai percorsi museali della nostra città marinara e dare validità al borgo antico di Torre Archirafi. La professoressa Maria Concetta Galabrese, a conclusione della cerimonia, si è soffermata sulla straordinaria e intensa storia del Palazzo Nobiliare Ripostese, leggendo un passo di un atto di cessione risalente al 1700 e proponendo all'amministrazione la realizzazione di un libro da dedicare alla storia del Palazzo Nobiliare di Torre Archirafi.